Presto o tardi sono le idee, non gli interessi costituiti a essere pericolose nel bene o nel male. Questa convenzione che era di John Mayer Keynes ha ispirato l'illusione liberista, un libro scritto per fare battaglia alle idee con l'obiettivo di sottolineare i guasti cui porta l'ideologia di mercato o quella che io ho chiamato l'ideologia di mercato. Intendiamoci, io non contesto affatto il ruolo o i meriti del mercato, dell'impresa e dell'accumulazione di capitale, ma mercato, imprese e capitale lasciati a se stessi hanno tanti difetti che devono e possono essere corretti. La correzione di quei difetti spetta necessariamente allo Stato, perciò non possiamo rassegnarci ai difetti dello Stato, alla sciatteria, alla corruzione, alla lentezza, perché se lo Stato fallisce nei suoi interventi correttivi, il rischio di catastrofe sociale, ma anche ambientale, cresce esponenzialmente. Secondo i liberisti, non solo il libero mercato crea le migliori opportunità e il maggior benessere per tutti, ma è anche il meccanismo che media nel modo più efficiente possibile tutti i rapporti sociali, trasformando i conflitti potenziali in pacifiche transazioni. La tipica prudenza di Adam Smith lo spingeva a vedere e bilanciare le virtù e i vizi del mercato. Quella prudenza è stata poi abbandonata dai liberisti teologici. Questi hanno selezionato geneticamente le idee sviluppate dagli economisti nel corso di due secoli e oltre per costruire un'ideologia capace di diventare senso comune e di fare breccia nella cultura di imprenditori, politici, di giornalisti e perfino della gente comune. Certo, l'influenza dell'ideologia liberista si è sentita e si sente di più nei paesi anglosassoni come negli Stati Uniti, il Regno Unito, che nei paesi dell'Europa continentale. Tuttavia, i modi in cui è cresciuta l'Unione europea dopo l'adesione britannica nel 1974 sono stati influenzati dal liberismo della signora Thatcher e dal successo che esso aveva avuto nel Regno Unito. Anche qui voglio sottolinearlo, nel bene e nel male, perché non è che non veda le cose buone che ci ha fatto raggiungere un maggior spazio dato al mercato all'interno dell'Unione europea, ma non sono solo cose buone. Voglio fare due esempi di effetti pericolosi dell'ideologia liberista. Il primo, secondo i liberisti le disuguaglianze economiche e sociali prodotte dal mercato non contano e anzi l'attenzione che ricevono vengono generalmente bollate come frutto dell'invidia sociale e non come il frutto dell'interesse e dell'attenzione per i nostri simili. Questa impostazione ignora che la disuguaglianza, come sappiamo, trainata dalla enorme crescita della finanza e dal potere monopolistico dei giganti, dal web, dei farmaci, della grande distribuzione, della stessa finanza, dell'industria, allontana le persone l'una dall'altra. Si ha la perdita della sensazione di vivere in una società condivisa, ha scritto il premio Nobel Paul Krugman. I ricchi si separeranno anche fisicamente dal resto della società e vivranno una realtà parallela e non comunicante, divenendo così sempre più sordi alle sofferenze, ai bisogni, alle aspirazioni di chi non fa parte del ristretto circolo di coloro che hanno montagne di denaro o di titoli o di ville e via di seguito. Ma la disuguaglianza corrompe anche il criterio del merito, che diventa sempre più indistinguibile dalla ricchezza e dalla posizione sociale e culturale ereditata e finisce per alimentare un'ulteriore crescita delle disuguaglianze, fornendo però una copertura ideologica a divari di distribuzione, inconcepibili anche qualche decennio fa. Oggi un manager di una grande banca può guadagnare fino a 500 volte il reddito medio dei dipendenti di quella banca. Valletta pigliava 10 volte il reddito medio dei dipendenti della Fiat, per esempio. Il secondo esempio, per decidere se, quando e cosa e quanto fare per ridurre le emissioni inquinanti e frenare il riscaldamento climatico, secondo i liberisti dovremmo limitarci a fare un conto dei costi e dei benefici in termini di reddito guadagnato e perduto con le varie opzioni. Naturalmente, dopo aver scontato abbondantemente sia i costi che i benefici che toccheranno le generazioni future. I liberisti predicano, in definitiva, un forte egoismo tra generazioni, senza particolari riflessioni o remore etiche, giustificandosi col fatto che i mercati scontano il futuro e riflettono le preferenze individuali. E poi i nostri lontani nipoti saranno tanto più ricchi di noi da potersi far carico loro di sostenere i costi dell'abbattimento degli inquinanti. E comunque il futuro trascurano che il futuro può essere troppo tardi per prevenire disastri irreversibili. Ma trascurano anche che le preferenze di oggi sono ovviamente quelle della generazione presente e che le generazioni presenti dovrebbero essere i custodi del pianeta per le generazioni future, le quali fanno parte integrante della comunità umana. Ma tutto questo sembra che ai liberisti duri e puri interessi molto poco. Ci sono anche tanti altri esempi. Li potete trovare discussi nel libro, espressi, spero, nel modo più chiaro e semplice, quantomeno nel modo più chiaro e più semplice che mi riesca.